A dieci mesi dalla posa e benedizione della prima pietra del monastero di Santa Teresa a Tolentino, le 17 suore della comunità delle Carmenitane Scalze rientrano nel loro rinnovato monastero. Più di 2000 metri quadri costruiti in legno e con materiale e tecniche ecosostenibili che occupano lo spazio del vecchio convento, abbandonato di fretta dopo il sisma del 2016 e poi successivamente demolito. Suor Maria Chiara Tani, madre priora del convento, non ha nascosto la gioia di ritornare dopo sei anni a vivere la propria vocazione di Caustrale in quel territorio che tanto li ha appoggiati e che ha dimostrato l'affetto attraverso la numerosa presenza all'inaugurazione del 30 ottobre. Ci sorprende ogni giorno l'affetto che ci viene dimostrato dai cittadini di Tolentino. Non immaginavamo di essere così mancate alla comunità locale. Ringraziamenti alla comunità che non sono mancati nemmeno da parte del Vescovo Nazareno Marconi che concludendo l'omelia della Messa di consacrazione dell'altare ha detto «Grazie a voi e grazie a Dio, ma grazie anche a tutti quelli che hanno reso possibile questo giorno. Sono un'enormità che ha messo un pezzo grande che un pezzo piccolo, ma questo monastero, questa chiesa, questo presbiterio rinnovato sono il frutto di tanti piccoli granelli che tutti insieme hanno fatto quello che oggi celebriamo». La cerimonia di inaugurazione del nuovo monastero di Santa Teresa ha visto un'importante rappresentanza del mondo civile con la presenza del sindaco di Tolentino Mauro Sclavi, di quello di Cascia Mario De Carolis, città che ha ospitato le suore negli ultimi anni, e anche del commissario straordinario per la ricostruzione Giovanni Legnini che ha indicato questa riapertura come esempio da emulare. «Sì, è una bellissima realizzazione fatta in pochissimo tempo. Le suore carmelitane hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per arrivare ad aprire il cantiere grazie al lavoro che con l'USR e con la struttura commissariale abbiamo portato avanti. Finalmente, non molti mesi fa, ha aperto il cantiere che si è concluso in tempi rapidissimi e questo è un motivo di grande soddisfazione».